Caro Bosi, molto lunga e infruttuosa attesa, ho deciso di iscriverti io stesso, per il tuo bene come per il mio, perché non vorrei pensare di aver attraversato... Ho letto questo testo qualche anno fa, mi aveva molto impressionato, mi hanno chiesto di... e ho sempre pensato di poterlo far conoscere la gente, non è facile che la gente si metta a leggere profondi e ho pensato quale fosse il modo migliore e ho pensato che leggerlo, illustrando un po' anche certi retroscena, non tanto da parte mia ma da parte di una specie di testimone letterario, sarebbe stata una cosa per me interessante, di solito quando una cosa mi interessa e mi intriga, la risposta del pubblico viene. Durante quella settimana io scrissi e completai in ogni particolare il primatto del marito ideale. La seconda settimana tu tornassi e io dovetti praticamente abbandonare il lavoro. arrivavo a St. James Place ogni mattina alle 11.30 per poter pensare a scrivere senza le inevitabili interruzioni della mia carta. Cerco di solito di dare, ma questo anche quando faccio dei personaggi diciamo teatrali, cerco di ridare l'autore, cioè quello che volevo fare voleva dire l'autore. Recentemente ho fatto Molière e qualcuno ha detto che davo l'idea di quello che poteva essere Molière allora. E questo seguendo esclusivamente il testo, la scrittura. Non ho altre testimonianze, non è che vado a cercare dei tic, è la scrittura che cerca di proporre. L'umiltà nell'artista e la sua franca accettazione di ogni esperienza. Proprio come l'amore nell'artista è semplicemente quel senso di bellezza che rivela al mondo il proprio corpo e anima. è molto intimo, molto sentito, molto appassionato, molto drammatico, molto tragico. Ma è la testimonianza di un grande sentimento, di un grande amore e viene citato anche Gesù Cristo come un grande artista, cosa sorprendente. Il posto di Cristo è veramente con i poeti. Shelley e Sofocle fanno parte della sua compagnia. Quanto a pietà e terrore non c'è niente in tutto il ciclo della tragedia greca che li stia vicino. Mi piaceva Brecht, mi piaceva Beckett, che loro addirittura consideravano scandalosi. La base del carattere è la forza di volontà. E la mia forza di volontà divenne assolutamente soggetta... Nell'intero e negli altri paesi europei non c'era differenza tra attore di cinema e di teatro. Un attore basta. Qui in Italia negli ultimi tempi si è un po' attenuata la cosa. Però in Italia c'è l'attore di televisione, l'attore di cinema e l'attore di teatro. Questa è una distinzione priva di senso. Tutte e due le cose si intersegano. Al cinema è utile fare le cose teatrali e al teatro è utile fare le cose cinematografiche. C'è la città con registi bravi, con attori bravi. Laddove ce ne sono le cose vanno meglio. Oltrambe le cose. Diventai incurante della vita degli altri. Presi il mio piacere laddove mi carbava e passai oltre. Dimenticai che ogni piccola azione della giornata fa o disfa il carattere. Perché c'è stata la drammaturgia della regia. Cioè la regia ha fatto drammaturgia. Si dice lo Shakespeare del regista. Si dice lo Shakespeare, si dice il Molière del regista. Non si dice Molière regia di, capito? Perché sono diventati loro gli autori. Presi il dramma, una forma più oggettiva nota all'arte. E ne feci un modo di espressione come la lirica o il sonnetto. Dramma, romanzo, poesie in versi, poesie in prosa, dialogo sottile e fantastico. Qualunque cosa toccassi la rendevo bella in un nuovo genere di bellezza. Per modo importante è fondamentale scrivere su delle persone che già lavorano insieme. Molière, Shakespeare, Fo. E lavoravano con gli attori, sapevano che avevano a che fare. Scriveva una pagina, un giro di Filippo. Scriveva poi le parti sera per sera. Ah bene, batteva i piedi e il suo genitore scrive la battuta. Con questo non voglio dire che la regia non ci deve essere. Ci deve essere, certo. Ma in Italia è diventata prevalente rispetto al testo. E soprattutto poi i registi non avevano amato mai di avere un autore vivo che potesse stare lì a dire no, non penso così, non penso così. Incompleto, imperfetto come sono, tu puoi tuttavia avere ancora molto da guadagnare da me. venissi da me a imparare il piacere della vita e il piacere dell'arte. Forse sono stato scelto a insegnarti qualcosa di molto più meraviglioso, il significato del dolore e la sua bellezza. il tuo affezionato amico Oscar Wilde. e il tuo affezionato amico Oscar Wilde. e il tuo affezionato amico Oscar Wilde. e il tuo affezionato amico Oscar Wilde. Grazie. Grazie.